Nel segno di una costante ricerca della libertà di pensiero, con un grande attaccamento tra l'altro alla sua città e alla sua famiglia, con un senso religioso della famiglia e un senso vivissimo della responsabilità personale. Non è un caso che questa cerimonia venga qui, a qualche centinaio di metri dalla casa, dalla villa di famiglia di campagna, molto legata alla famiglia Levy e dunque all'arrivo che è stato l'ultimo della sua generazione. È stato un maestro di giornalismo per tutti noi, è un segno e un'espressione di grande attaccamento alle istituzioni. Il periodo del Quirinale fu un periodo di servizio al paese. Il periodo del Quirinale fu un paese.